Roma scheggia d'Oriente incastonata nel mar Mediterraneo, Roma giovane donna che vole fosse costruito per lei una città sulle rive del Tevere. A Scagnusa ha intervistato Salvatore Spoto, giornalista e scrittore, ha lavorato 35 anni al Missaggero e precedentemente al resto del Carlino con Enzo Biaggi. Spoto ha al suo attivo ben 25 libri e ha dato alla città eterna con il libro Roma esoterica, edito da Newton e Compton, una lettura della grande bellezza originale e piena di storia ma stavolta attraverso documenti giuridici che risultano dagli atti pubblici e dai processi. Ho detto basta con la cultura tradizionale fondata sulle fonti ufficiali, quelle che tutti conoscono, i vari titoliri e così via del genere, ci sono anche altre fonti sulla storia di Roma e sono le fonti giuridiche che risultano da atti pubblici, da documentazione di processi e così via del genere e che soprattutto vertono sul cambiamento di modelli culturali e sociali nella Roma antica dopo il II secolo d.C. quando incominciarono ad arrivare gli stranieri e portarono le loro tradizioni, i loro culti che cambiarono il costume di Roma e soprattutto modificarono il comportamento delle donne e fecero di quel periodo un periodo di rinascita sociale con le donne che assunsero un potere e un'immagine diversa dal precedente. cambia il moto per diventare persona libera e al posto di schiava e un esoterismo vero però è un esoterismo non nel senso che oggi diamo a questo termine ma nel senso religioso e soprattutto esoterismo inteso come culto non conosciuto ma culto non conosciuto perché per la prima volta tocca l'anima, affida un ruolo all'anima, esoterico perché si entra in quel culto e quindi in quello spaccato della società mediante riti molto particolari che portano un uomo o qualunque persona, anche una donna perché ci sono anche i culti femminili da un piedistallo sociale a un altro. C'è una ragazza di nome Roma nel libro che volle si costruisse una città sulle rive del Tevere. E' una leggenda questa d'epoca repubblicana ed è il primo anelito a Roma di una donna che sia pari all'uomo, la donna non era pari all'uomo, la donna era sotto la manus del padre o del marito e questa manus portava anche alla morte, nel senso che la donna poteva essere uccisa legittimamente senza alcuna verifica dello Stato o dal marito oppure dal padre. La manus era veramente una tragedia della Roma antica. Questo cambiamento sociale riguarda soprattutto la donna, la rende più libera, la rende più autoresponsabile.